Papa dolcissimo nell'ultimo video pubblicato dalla compagna Sharon Fonseca L'influencer 52enne da 18 milioni di follower, legato da un anno circa alla modella e anche le influencer venezuelana 25enne sono diventati genitori martedì 27 ottobre 2020 e hanno annunciato la lieta notizia su Instagram La nascita della prima figlia della coppia era stata anticipata da un video in cui l'influencer ballerino danzava in sala parto Poi la prima foto di famiglia, lei è con noi. Sharon ed io siamo felici di annunciare che questa mattina è nata nostra figlia, lui Jerusalem Avakki Grazie a Dio è sana e la stiamo già amando più delle nostre vite, aveva scritto nel messaggio Da quando Blu Jerusalem è arrivata, la vita di è cambiata radicalmente e oggi è tutto casa e famiglia Lo scorso mese, in occasione dei 26 anni della compagna, l'imprenditore le aveva dedicato parole dolcissime sui social Auguri amore mio, aveva scritto. Tre anni e dieci giorni fa ci siamo incontrati per la prima volta e non sapevo ancora quale benedizione Dio mi avesse mandato quel giorno Oggi abbiamo Blu Jerusalem, e nella nostra famiglia l'amore continua a crescere ogni giorno Ti amo mia regina, più di ieri ma meno di domani, aveva concluso. Anche se mi sento già sposato con Sharon ha dichiarato in un'intervista al magasino la vorrei che mia figlia crescesse in una famiglia tradizionale Un giorno mi presenterò con un anello e le dirò, Sharon, mi vuoi sposare adesso? D'altra parte, mi piacerebbe aspettare che Blu sia un po' più grande in modo che possa ricordare il matrimonio dei suoi genitori L'ultimo video pubblicato da Sharon Fonseca mostra in una dolcissima veste da papà L'imprenditore culla la figlia Blu Jerusalem e la compagna riprende la scena orgogliosa Nessuno mi aveva mai detto che una delle parti più importanti della maternità sarebbe stata guardare il proprio partner diventare papà Ha scritto la modella a corredo del filmato che, neanche a dirlo, è stato invaso di cuoricini, commenti e like Pubblicato il 2 marzo 2021 alle ore 12, 37. Ultima modifica il 2 marzo 2021 alle ore 12, 37 Grazie a tutti